Imboccare la giusta via per dare risposte adeguate ai pazienti e al territorio metropolitano di Reggio Calabria è quanto chiede il segretario regionale del Sul, Pipino Gentile, ai vertici dell'ASP di Reggio Calabria commissariata già da tempo per infiltrazioni indranghetiste. Non basta lo scioglimento per infiltrazioni mafiosi, spiega il sindacalista, adesso serve ricostruire ciò che la mafia ha distrutto. Gli ospedali di riferimento territoriali SPOC hanno un ruolo molto importante e devono essere dotati di attrezzature e personale adeguati per garantire l'assistenza sanitaria e gestire l'ammalato nei tempi brevi possibili per salvare vite umane. Non possiamo stare a guardare, sostiene ancora Gentile, e pensare che niente e nessuno sarà in grado di rimettere in moto un sistema virtuoso per ricostruire la buona sanità e ridare il diritto alla salute a circa un milione di abitanti residenti nella città metropolitana. Adesso c'è la necessità di ripartire e bisogna farlo in fretta. Ebbene, non possiamo più sopportare il fermo di un'attac vecchia di 12 anni, sostiene ancora il sindacalista, con oltre 100.000 esami sul groppone come quella di Polistena. Nel caso in specie riferito alla diagnostica del Santa Maria degli Ungheresi, precisa, è necessario definire che la vetusta apparecchiatura e gli esami eseguiti possono definirsi un primato nazionale, probabilmente dovuto alla bravura e alla caparbietà di un primario, che non si fa corrompere o intimorire da nessuno, ma che aspetta risposte da una commissione antimafia che deve praticare il bene comune, partendo dalla piena efficienza dei servizi essenziali. Il segretario regionale del Sulpi pone un punto interrogativo sul perché la commissione antimafia dell'Aspi di Reggio Calabria non dovrebbe risporre la fornitura di tutte le attrezzature necessarie nei servizi pubblici essenziali, magari di livello superiore a quelle in dotazione nel privato, convenzionato e sostituirle per tempo per non causare interruzione di pubblico servizio. Non dimentichiamoci, spiega ancora il sindacalista, che la TAC, che è in uso all'ospedale di Polistena, ha un ciclo vitale di circa dieci anni e andrebbero sostituite per tempo. Per il segretario regionale del sindacato unitario lavoratori pubblico impiego, infine, questi aspetti di responsabilità gestionale dovrebbero assumere un posto di primo piano sul tavolo di chi governa la sanità provinciale e regionale.